signore e signori siamo stati travolte da un un muro di sorrisi un muro di sorrisi quale sarà di queste le ragazze la ragazza protagonista della serata chi sarà chi sarà è lei l'abbiamo trovata ciao cara come ti chiami Nicole sei timida si allora spegniamo un attimo le telecamere vediamo se lei è timida al battuto da dove arrivi da romano di lombardia è preparatissima stasera ma sei carica sei troppo carico sei no sono agitata agitata mi fai mi fai la mano agitata così facciamo tutta la mano agitata come stai bene 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 il mio professore a scuola diceva sempre quando ero un po agitato fa guarda su guarda giù guarda adesso guarda sinistra come stai bene a posto facciamo un po di distrazione allora con chi ti sposi raffic a raffic proprio da prendere proprio a raffico questo ragazzo dopo quanti anni nove ce l'ha fatta eh applausi a raffic applausi ce l'ha fatta raffic sei convinto una bambina che è una famiglia quindi abbastanza io la prendo lei va sempre più indietro non so a casa sta andando a casa allora quando e dove allora il 14 giugno alla vasceri brusa porto perfetto noi non ci saremo perché costiamo cari almeno dopo la torta siamo veramente spendacioni noi però ti auguriamo tutto il bene del mondo e meno ansia meno agitazione quello il problema facciamo un applauso è carica